Musica Potente appara ragazzi, qua Vax, l'ho giudicato, oggi sono da sole e sono qui a presentare questo mio nuovo video Che ragazzi è un nuovo squad builder, ma un squad builder abbastanza particolare Perché infatti questa squadra sarà costituita da un maccello di summer transfer Infatti il mio fine qual era? Era quello di trovare una squadra economica, forte, ma soprattutto una squadra costituita da un maccello di summer transfer Quindi da giocatori che hanno cambiato squadra durante il periodo estivo Quindi ho anche da fare una piccola precisazione, questa squadra sarà costituita se non mi sbaglio da un 7-8 summer transfer Poi da altri giocatori normali e da un giocatore che ha cambiato squadra ma che io ho preferito utilizzare nella sua versione precedente Comunque tra poco vi farò vedere tutto Per iniziare come sempre però vi volevo ricordare di passare da FIFA con gli stessi interessati a comprare che di FIFA E vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi state dando Vedo che con i like stiamo tornando piano piano però sempre più attivi Quindi magari se non sapete cosa fare lasciatene uno adesso, vi do proprio 3 secondi per lasciarlo E ora vi ringrazio, grazie mille E se non l'hai messo lo metterai dopo, ne sono sicuro Comunque senza giovaniamo vi direi subito di partire Allora in porta mi serviva un portiere forte della Barclays Premier League Quindi ho scelto di utilizzare Cech Potevo utilizzare anche Courtois Non ci ho pensato però Se voi non volete utilizzare Cech ma preferite utilizzare Courtois Non cambia assolutamente niente perché tanto Cech darà doppia intesa al nostro difensore centrale Che infatti è David Luiz Ecco qua il giocatore di cui vi parlavo prima E questo qua è l'unico giocatore che ha cambiato squadra Ma che io ho deciso di utilizzare nella sua versione precedente Di David Luiz e Cech non parlo perché ormai sono in ogni mio squad builder Sono entrato veramente forti e buggati Se avete crediti necessari provateli Passiamo invece al terzino sinistro Ecco qua il primo giocatore transfer di questa squadra Filippo e Luis Che appunto Filippo e Luis del Chelsea Che ho pagato 20.500 crediti Ma perché l'ho pagato così tanto? Perché essendo uscito da poco questa nuova carta Ce ne sono poche sul mercato Ed essendo ce ne è poche sul mercato il loro prezzo è molto alto Quindi se voi magari volete farvi questa squadra Però non avete tutti i crediti necessari Potete ovviamente comprarli O potete spacchettare O se no vi basterà aspettare un paio di settimanelle In modo tale da far uscire più carte Più carte di uno stesso giocatore E in modo tale da far abbassare il prezzo di quel giocatore Passiamo invece Adesso prima vi mostrerò la parte sinistra E poi la parte destra Perché appunto contengono giocatori di diverse lighe Allora come Cdc Utilizzo un centrocampista difensivo centrale Che appunto appena cambiato squadra E passato dal porto a Manchester City Di chi sto parlando sto parlando di Fernando E ragazzi non so se ve lo sapete Ma credo di sì Io come squadra inglese ti fo il Manchester City Sinceramente non è che mi stia molto piacendo Il mercato che sta facendo Perché non è che gli servano tanti di quei giocatori Però ha preso Fernando E ha preso Caballero Adesso non dico che siano scarsi Però dal City io mi aspetterei un qualcosa di più Comunque Fernando l'ho pagato solamente 650 crediti Quasi il prezzo che mi danno se lo scarto 632 Quindi non credo che voi possiate avviare problemi ad acquistarlo Questa squadra l'ho utilizzata per una partita Infatti gol Non li farò diciamo Non ve li farò vedere mentre io ci parlo sotto Li farò direttamente in live Comunque andiamo avanti Come C Aspetta Come COC Utilizzo anche questo giocatore Che è andato al Chelsea E è passato dal Dal Barcellona Al Chelsea Sto parlando infatti di Fabregas Che tipo Non so se è vera sta cosa Mi sembra Ho letto su internet Che quando era l'Arsen Ha detto Non andrò mai al Chelsea Uccidetemi se lo farò Guardate un po' in che squadra Gioca adesso Chelsea Comunque Fabregas L'ho pagato 60.500 crediti Stesso ragionamento che ho fatto per Filippo e Luis Costa abbastanza E se devo essere sincero Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto perché In un paio di occasioni Si è trovato solo davanti al portiere E mi ha tirato fuori Neanche sul portiere Oppure ha preso pallo attraversa Mi ha proprio tirato fuori Infatti io quel 79 di tiro Non so dove l'abbiano pescato fuori Comunque passiamo al primo Dei due attaccanti Come ATT infatti Utilizzo Diego Costa Diciamolo alla pardo Diego Costa Però potete utilizzare Anche tranquillamente Drogba Ho deciso di utilizzare Diego Costa Perché voglio provare lui Se volete utilizzare Drogba Ovviamente mettetelo Queste sono opinioni soggettive Diego Costa Una partita Mi aveva fatto due gol Mi ha dato zero Non so perché Sembra che Ah no si Perché ho quitato Mi si è quitato alla fine Comunque vabbè Comunque Diego Costa Tre stelle di piede debole Tre stelle di molte abilità Con l'upgrade di 84 Perché se vi ricordate La sua prima versione Dell'Atletico Era un 83 Anche lui mi è piaciuto Ma non tanto Ma a me non piace Perché ha tre stelle di abilità E per un attaccante Per un attaccante Sono abbastanza poche Quattro No quattro è il top Per un ATT Secondo me Passiamo invece All'altra parte della squadra Perché infatti Come primo difensore centrale Credo che sia Il transfer più famoso in Italia Perché infatti Come primo difensore Come altro difensore centrale Utilizzo Vidic Che appunto è andato all'Inter E ragazzi Secondo me Questo acquisto È stato uno dei migliori Perché Non l'hanno pagato E per me è una bestia È vecchio È vecchio Per essere vecchio è vecchio Ma secondo me È veramente forte E può dare tanto all'Inter Invece come terzino destro Utilizziamo lui Utilizziamo il divino Johnny Che farà Fa e farà vincere sempre questa squadra Jonathan Ha pagato 6100 credit Quindi come Vidic Tecnicamente parlando Dovrebbero essere forti uguali Dato che l'ho pagato uguali Ma questo è FIFA Quindi non è vero Comunque L'ho pagato così tanto Perché lui è argento Poi magari qualcuno L'ha presfixato Jonathan Non c'è niente da dire È divino Passiamo invece Al centrocampista difensivo centrale Utilizzo un centrocampista centrale Dell'Inter Che per me Nei prossimi anni Diventerà veramente un fenomeno Che è Matteo Kovacic Sono stato il primo proprietario Non costa assolutamente niente Tipo 500 crediti Lui mi ha stupito È abbastanza forte Solamente Anche lui Come Fabregas Una volta Si è trovato da solo Davanti al portiere E l'ha sparata fuori Una nera Indecente Quindi una cosa che spero Gli upgraderanno Su FIFA 15 È proprio il tiro Passiamo invece Al centrocampista offensivo centrale Non è più della Serie A Bensì è della Liga BBVA Appena ha cambiato squadra E si è trasferito Dal Atletico Bilbao Al FC Barcelona Sto parlando infatti Di Rakitic Anche lui ragazzi Veramente forte Ma lui mi ha stupito Veramente Mai me lo sarei aspettato Così forte E pensate un attimo Che cavolo di centrocampisti Ha la Croazia Modric Rakitic E Kovacic Mamma mia Comunque Rakitic L'ho pagato veramente poco Per essere un transfer Solamente 1900 Se avete i soldi Compratelo Perché è veramente forte E andiamo a vedere L'ultimo attaccante L'ultimo attaccante di oggi È Mandzukic Mario Mandzukic Che appunto È passato dal Bayern Munch All'Atletico di Madrid E secondo me L'Atletico di Madrid Ha fatto un acquistone Perché secondo me Mandzukic È più forte Diego Costa Comunque ragazzi Questa è quella squadra Adesso andiamo a fare due partite Per appunto Provarla in diretta Vediamo il nostro primo sfidante 95 di intesa Madonna È una Barclays Premier League Mista A Tiago Silva E Dani Alves E Casillas Quindi Non molto buona Come squadra C'è Giocatori parlando Sì Ma Complessivamente Non molto Speriamo di vincere Boia dee Questa ascolta la musica Mi dà molto fastidio Palla in mezzo Il divino Johnny La prende Ma che si ascolta La musica Indecente Perché Oia l'alto Oia No dai La musica Mi dà fastidio Probabilmente È un Giampestato Un piede Questo urla Bella Grande Gol Gol Uno a uno Da quando Ho messo Ho messo Muto Al sessantaseiesimo E al sessantanovesimo Andiamo Già solo Uno a uno Dai Finalmente Bello Grande Grande Da Diego Dieguito Lo metti Oddio Cos'era È tua Oddio 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 C'è il gol 2 a uno Non posso urlare Che c'è mia sorella Che dorme Ma dopo Lo sveglio Ragazzi Mia mamma Ammazza Ops Dieguito Dieguito Boom 3 a uno Al sessantatesimo Diego Costa Cioè ragazzi Ho messo su muto Era la canzone Probabilmente lui ha una tecnica Ascolta una canzone Di uno a cui pestano un piede E urla a caso Per far innervosire l'avversario E E E Fabregas Per Fernando Fernando Perde palla Bellissimo Grandissimo Stop di parte Di Dieguito Costa E Finta No dai L'avevo Fintato Ma perché è uscito Madonna Ed è finita E vinciamo la prima 3 a 2 E andiamo a fare il 2 sui 2 Via con la seconda Secondo Sfinante Secondo e ultimo Sfinante di oggi Andiamo a vedere la squadra Rullo dita Rullo di mie dita Sul tavolo Minghie Bella sta squadra Questa è bella Bella hybrid Bella hybrid Real Saint London My god Manzuki Rakitic in mezzo Vede Madonna che passaggio Madonna Madonna che gol Madonna Santa Madonna che gol All'undicesimo Diego Costa Ci porta in vantaggio Bella Johnny il divino Il divino Johnny La mette perfetta Madonna il divino Johnny Che ha fatto 2 a 0 Sempre lui Dieguito Bella palla Bella palla Per Fabregas Dai fammelo Fabregas No Non me lo fa Parata Palla per Sempre Diego 3 a 0 Hat trick di Diego Costa Mamma mia Cioè Sono state due partite A livello di emozioni pari A Benfica Sivilla Comunque ragazzi Detto questo Il video è terminato Giocatori che mi sono piaciuti Assai sono Jonathan che è fortissimo Poi mi è piaciuto appunto La concretizzazione Come concretizza le azioni Diego Costa Però secondo me è un po' Macchinose Drogba Forse è un filo meglio Dato che è anche un po' Più buggato E invece Mandzukic Come al solito Sempre al solito Buggato Non mi ha segnato tanto Però appunto I movimenti erano quelli Quindi questi qua Sono i giocatori che mi sono Anche Vidic Vidic Me lo sono Appunto me lo aspettavo Molto lento Ma mi è piaciuto Un macello Come difensore E quindi ragazzi Detto questo Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Vi dico potente A pala Al prossimo video Bolla